Lecce e Empoli 1-0, gol di Sansone all'ultimo minuto, quindi se vogliamo ci sono stati 270, 269 minuti senza gol, talento di recupero nella giornata di ieri. Lecce che sarà a quota 32 punti, più 6 della zona di retrocessione, Empoli a più 2, 3 clean sheet e 7 punti in 4 partite per Luca Gotti, Lu Sule, Lumare, Luca Gotti, come direbbe Luca Gotti Reacts, quindi giusto... Io proprio stavo per salutarvi con questa frase, ve lo direi allo solo e allo male, insomma Luca Gotti, quindi appunto vi saluto e sempre viva insomma il grande professore Luca. Il grande Lucone. Arrivederci. Venendo alla partita, Gianluca dicci un po' tu come l'hai vista e parloci un po' della gara, al di là poi del gol arrivato nel finale, com'è stata? Allora, secondo me è stata una gara meno brutta di quello che si possa pensare, perché è così, sembrava uno zero a zero già scritto e già vedi, fortunatamente secondo me Sansone ha, secondo me, evitato quei commenti un po' da bomber, e questa è la serie A tutti zero a zero, perché secondo me Lecce e Empoli sono i due esempi più sbagliati quando si parla di squadre di serie A che diciamo speculano sul risultato, che faranno finire le partite zero a zero, anche se effettivamente zero a zero secondo me era un risultato che ieri poteva far comoda a entrambe, fatto sta che ovviamente il Lecce con questi tre punti secondo me ha fatto lo scatto forse definitivo verso la salvezza, però dicevo la partita secondo me ha comunque offerto degli spunti, perché c'è stato secondo me un buon primo tempo da parte dell'Empoli, con un gol annullato per un episodio abbastanza singolare, perché effettivamente non ricordo un altro episodio del genere, un gol annullato per... ci sta, cioè è da regolamento giustissimo perché l'azione è la stessa, l'azione non è stata fermata e Lecce non ha recuperato il pallone nella transizione che va da Caprile a Cerri, quindi effettivamente il gol dell'Empoli è irregolare, però certo c'è una componente secondo me di sfortuna, nel fatto che proprio in quell'azione Ceti avesse finalmente trovato il gol, cosa che non gli capita tutti i giorni, su un raro secondo me errore dice André, che secondo me resta uno dei migliori giocatori del Lecce, anche se secondo me forse il feeling con Gotti deve ancora scattare totalmente, visto che è stato messo un po' in discussione, sostituito anche ieri da Venuti a un certo punto, però resta un giocatore secondo me importantissimo per il Lecce. Nel secondo tempo invece il Lecce l'ha voluta vincere, poi ecco se il risultato è stato di marca un po' diremmo allegriano, la montagna di Grimm, diremmo un po' allegriano, in realtà è perché comunque queste due squadre di qualità davanti secondo me ne hanno ben poca, entrambe le squadre, per esempio l'altra volta facevo il discorso sul Lecce perché c'è sulla sconfitta del Lecce contro il Milan, il Lecce non era riuscito a capitalizzare quell'unico momento positivo alla fine del primo tempo, perché comunque non era riuscito a trovare la via della rete, nonostante poi la traversa di González e anche questa volta, anche ieri, aveva preso la traversa piccoli e ecco il Lecce secondo me ha veramente poca 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 qualità lì davanti, non volendo neanche riaprire il discorso strevezza, ma comunque ecco Christovic era squalificato, ma mi dispiace dirlo, ma secondo me non era un grande svantaggio per il Lecce, visto il momento che sta attraversando Christovic, Alan Quist stavolta anche lui si è fatto squalificare contro il Sassuolo, sfida secondo me anche quella fondamentale, se il Lecce vincesse anche questa sarebbe veramente salvo praticamente al 100%, però ecco davanti secondo me c'è ben poco su cui lavorare piccoli e quello che secondo me sta dando qualche risposta in più e poi ecco alla fine Gotti sta facendo il meglio con il materiale che ha a disposizione, perché comunque il Lecce è organizzato, a centrocampo hanno fatto una grande partita a Ramadani e anche Blen, di cui secondo me si parla sempre troppo poco e ecco davanti poi Gotti l'ha vinta con i gambi, l'ha vinta con una giocata di Pierotti a liberare Sanzone, Sanzone che secondo me si verita anche un po' questa considerazione, perché ecco dispiace per il fatto che se ne sia andato da Bologna proprio prima di questa grandissima stagione, il Bologna ha fatto i suoi ragionamenti che in questo momento stanno assolutamente dando ragione, tutto quello che, ora la partita di ieri ok, però tutto ciò che sta facendo il Bologna è clamoroso, quindi è ovvio che tutte le operazioni che ha fatto il Bologna sono state a posteriori giuste, però Sanzone secondo me era un giocatore che comunque poteva starci in questo Bologna, perché il gol di ieri era facilissimo, bisognava semplicemente spingerlo in porta, però ci siamo ricordati che il Lecce ha comunque queste armi da usare magari anche a partita in colso, però chissà, ecco con la prossima partita che Anquist è squalificato, queste armi a disposizione di Gotti potrebbero servire addirittura al primo minuto, ecco un Pierotti, anche un Sanzone, potrebbero secondo me trovare spazio. Spazio. E poi ecco il terzo clean sheet che si porta a casa Gotti, secondo me questo è il vero risultato, perché non subire gol, ecco il Milan, vabbè, ha preso tre gol, però perché il Milan ne ha fatto subito uno, dicevamo, la partita si era messa sui binari di Pioli, però ecco non prendere gol, l'Empoli ne aveva segnati tre la settimana scorsa e soprattutto poi non prendere gol con la Roma, questi sono secondo me riscontri positivi di una fase difensiva a cui Gotti sta dando veramente tanto, un'attenzione secondo me maniacale che si era persa nell'ultimo periodo con Daversa, quindi al di là dei vari meme su Gotti che fa finire la partita 0-0, la partita ieri è finita 1-0 perché ha fatto secondo me il meglio che si potesse con la rosa del Lecce. Dall'altro lato c'è un Empoli che sta cercando in ogni modo, come dico sempre, di sfuggire alla crisi del terzo anno, un Empoli a cui Nicola aveva dato una svolta importante quando era arrivato, però io continuavo ad avere dei dubbi sulla rosa se effettivamente fosse una rosa adatta al gioco di Nicola ed ecco secondo me lì c'è qualcosa che non quadra e qualche nodo sta venendo al pettine, detto poi che Nicola, anche lui sta facendo il massimo, però secondo me non è quel tipo di rosa adatta per lui perché comunque ieri ho visto l'Empoli perdere molti uno contro uno, anche a volte andare in difficoltà in transizione che era proprio la forza in realtà dell'Empoli. Eccoci, ci ho caputo, ci ho caputo come dicevo l'altra volta, secondo me ha scritto la sua bellissima storia però adesso secondo me non ce la fa più per una serie di motivi. L'Empoli, se in Yang non si inventa qualcosa è molto difficile che riesca a trovare la via della rete. Ieri aveva fatto la giocata a cancellieri, poi ha cancellato, gioco di parole giuro che non era voluto dall'errore di Caprile, però ecco la qualità secondo me è veramente veramente poca lì davanti. Sì sì, sono d'accordo, peraltro... Lui secondo me potrebbe essere un giocatore utilissimo se dovesse recuperare la forma, un giocatore che mi è sempre piaciuto un sacco, fondamentale secondo me nello Spezia, finché c'è stato, finché fisicamente ce l'ha fatta, però... Ti faccio io non domando. Sì sì sì, è una statistica un po' paradossale, però ecco se non si inventa qualcosa lui, è veramente difficile che l'Empoli possa rendersi pericoloso. Ti faccio io una domanda, dato che l'ho letto ieri. Ma l'anno prossimo, lo vedresti bene Caprile a Napoli oppure no? Assolutamente sì. Ma titolare? Non so se è addirittura da titolare, però secondo me deve essere nella rosa del Napoli, perché comunque Meretto qualche limite negli ultimi anni l'ha dimostrato persino nell'anno dello scudetto. Caprile ora, ecco l'errore di ieri secondo me è stato un episodio che non dovrebbe proprio cambiare la valutazione delle sue qualità da portiere. Comunque qualche parata l'ha fatta se Lecce non ha trovato subito il vantaggio in inizio del secondo tempo e anche per le sue parate, anche se poi purtroppo nella singola partita l'errore all'inizio pesa. Però Caprile secondo me sta facendo già una mission impossible, che è quella di sostituire Vicario, perché all'Empoli l'anno scorso giocava uno dei migliori portieri d'Europa e secondo me in questo momento non è la fase difensiva il problema dell'Empoli. Caprile sta mettendo veramente in mostra delle buone qualità. Se possa fare fin da subito il titolare al Napoli, questo bisogna un po' vederlo perché il Napoli già deve cambiare tanto secondo me l'anno prossimo. Ci sarà comunque una, diciamo, mini rivoluzione, ma forse neanche tanto mini. Quindi non so se effettivamente cambierà da subito anche il portiere. Però secondo me deve restare nella rosa del Napoli perché un portiere così giovane è un patrimonio che il Napoli non può perdere. E quest'anno è andato, cioè ci stava potendo mandare in prestito in Serie A, però poi spero che non finisca appunto in una girandola infinita di prestiti. Perché poi ricordo per esempio il caso di Sepe, che non hanno poi gestito pure il Napoli, non ha proprio giocato, però ha fatto 3.000 prestiti senza effettivamente mai avere l'occasione in prima squadra. Quindi spero che venga gestito bene e gli venga dato la possibilità. Ecco, poi però dipende da una cosa, dipende se il Napoli si riesce a qualificare in Europa. Perché se si riesce a qualificare in Europa gli serviranno due portieri buoni, secondo me. Il discorso è diverso se il Napoli non dovesse qualificarsi per nessuna Coppa e ci sarebbe in quel caso troppo poco spazio da dare a un secondo portiere. Perché, ecco, per esempio, secondo me se Carnesecchia adesso è esploso, ed è diventato il titolare dell'Atalanta, in odore anche di nazionale, è perché comunque Gasperini ha potuto provarlo nelle Coppe quando inizialmente il titolare era russo. Perché è giusto che il titolare sia ancora meretto per meriti, comunque che ha avuto negli anni scorsi. Però Caprile va approvato, quindi direi vediamo se il Napoli si qualifica e poi facciamo i nostri discorsi. Visto che la situazione è quella che dopo 14 anni si rischia di uscire per la prima volta dalle Coppe, con una situazione un po' tra virgolette nuova, a cui anche il tifoso non è tanto abituato, però bisogna, ecco, rimboccarsi le maniche. E tra un'ora ci sarà una partita, secondo me, fondamentalissima. Con il Frosinone che, scusate un attimino il momento hop da Giangi, ma questa mi ero preparata, il Frosinone sarà la prima squadra ad aver affrontato il Napoli con tre allenatori diversi, cioè tre allenatori diversi del Napoli, perché con Garciano in campionato e abbiamo vinto, con Mazzarri in Coppa Italia e abbiamo perso, e adesso con Calzone. Almeno nell'era De Laurentiis è la prima volta, perché non c'erano stati mai tre allenatori, quindi da vent'anni è la prima volta. Poi si aggiungerà la Fiorentina, perché la Fiorentina l'abbiamo affrontata in Supercoppa, sempre se non dovesse tornare uno tra Garciano e Mazzarri, perché con De Laurentiis è possibile tutto, quindi è capace che l'unica squadra resterà il Frosinone. L'Inter no, perché l'Inter già c'era Mazzarri in campionato. No, più che altro, per chiudere su questo discorso di Lecce-Tempoli, chiudere la live in generale, due cose c'è da dire sui due allenatori delle due squadre. da sottolineare il lavoro di entrambi. Il lavoro di Luca Gotti, che come ha detto Gianluca, è ottimo. Il Lecce è totalmente rinato da quando è arrivato lui, per i numeri che abbiamo dato, per le prestazioni che sta facendo, per quello che è, anche quando non ha vinto con la Roma, ad esempio ha fatto una grandissima partita. E non è per nulla scontato, perché con D'Aversa il Lecce aveva fatto cinque punti nelle sue ultime dodici partite, per cui a un certo punto aveva fatto una vittoria e due pareggi, poi nove sconfitte, per cui era un enorme momento di difficoltà e di grande crisi, per cui Benedetta fu quella testata da questo punto di vista. E soprattutto sono contentissimo per il Lecce, perché è una squadra che merita la salvezza, per come lavora, per i propri tifosi, per Corvino, per il lavoro che fa, anche per la proprietà, perché comunque con i suoi limiti, sticchi Damiani fuori il suo, comunque non gli si può dire nulla, e fa il massimo. Diciamo che ci sono presidenti di bassa classifica, con più mezzi economici, e con una squadra anche più forte, che hanno voluto fare i fenomeni quest'anno e essere andati in Serie B. Ogni riferimento a determinate persone è puramente casuale, però per cui viva questi presidenti qui di grande umiltà, di grande lavoro. Dall'altra parte, ci tengo a dire una cosa su Nicola, perché sono d'accordo al 100% con Gianluca per quello che ha detto sulla rosa dell'Empoli, e aggiungo una cosa. Non scordiamoci com'era l'Empoli prima di Nicola. Cioè, l'Empoli era una squadra spacciata completamente prima dell'arrivo di Nicola, cioè, la davano tutti per morta, e il fatto che adesso quasi, perché poi funziona sempre così, è un po' come il Bologna, se non dovesse andare in Champions è una delusione. Cioè, dipende da come vedi la situazione, diciamo, dalla prospettiva, dai risultati che si arrivano prima o dopo, quindi se le vittorie di Nicola non le avesse fatte all'inizio ma le avesse fatte alla fine, sarebbe stata una salvezza miracolosa, altrimenti... Marco Baroni. Marco Baroni l'anno scorso. Esatto, esatto, uguale. E infatti, questo è da sottolineare per dire che a prescindere da come finirà l'Empoli, non avrebbe... Cioè, mi sembra assurdo veramente che questo momento in cui ha fatto una vittoria nelle ultime cinque, credo che quattro sconfitte, anche tra l'altro con molte big, debba addirittura ricevere delle critiche, perché quello che sta facendo, quello che ha fatto in un Empoli che sembrava spacciato, con una rosa che, come ha detto Gianluca, è tutt'altro che eccelsa, mi sembra già ottimale. Sarebbe... Cioè, quello che sta provando è appunto un miracolo, ma non è che se non riesce il miracolo ora Nicola non è bravo. Quindi, questo è da sottolineare, secondo me è da dire, perché poi... Però secondo me ci la fanno. Io sono convinto. Vediamo, vediamo.